Uomini e donne Lavinia Mauro e Alessio Corvino come hanno passato il Natale Semplicemente insieme, purtroppo dobbiamo anche dirvi che sono anche l'unica coppia che sta ancora insieme di quella sessione di Troni Gli altri come sapete perfettamente ossia Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati da tempo e a quanto abbiamo visto non si sono nemmeno scambiati pubblicamente gli auguri di Natale Tutto il contrario quindi di Alessio e Lavinia che ve lo ricordiamo nell'ultima intervista che hanno rilasciato hanno anche parlato del 2024 come l'hanno per un possibile matrimonio E figli, ma senza aggiungere altro adesso non ci rimane altro da fare che lasciarvi al video di Alessio e Lavinia direttamente dal Natale Il Natale di Alessio e Lavinia Il Natale di Alessio e Lavinia Il villaggio va a dormire Ma è una situa, qui c'è anche mia che dorme Ragazzi il panico Signor Sorbi Sbrano Sbrano che non è il mio dolcice Sono il lupo di Sbrano Ragazzi, sono stato al lupo io Sbrano 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 Sbrano